Pronto? No, dottore, stai in di monte. Ciao, è stata con il monte. Ma mi spiace, è impulsato? No, è stato pronto col cognato. Oh, sto qua dentro, cioè a novembre, in avril, giugno e settembre, i dottori sono sanziuno, non ne trovi mai di tutto. Pronto? Rai di più, va di mica. Ti vuole, dottor Facciuchi, adesso io passo. Pronto, dottor Facciuchi? Dottor Facciuchi è da dottor Gueraccio, adesso che faccia dottor Gueracci. Dottor Gueracci? Dottor Gueracci è da dottor Picotta, adesso che faccia dottor Picotta. Pronto, dottor Picotta? Dottor Picotta è da dottor Facciuchi? Eh, me ne spiace, ma in circolo vizioso. Eh, sta alluzione, se capisce, eh? Come dice, sono che stanno tutte e tre? Eh, sono occupatissimi, se non sono disturbato, provi a chiamar fuori ora di capuccino. Eh, non è certo che con questi centravidi elettronici il lavoro è molto facilitato, è diventato proprio di votante. Ora voi abbiamo messo un cerchetto elettronico pure in direzione generale, che fa il lavoro dei 50 impiegati, votando operai, 50 usceli e 10 dirigenti. Ma una cosa di molto interessante di questo cerchetto elettronico è che pure quando si guasta fa sempre il lavoro dei 10 dirigenti. Pronto? Ora hai disfupato e pica. In modo il vice direttore? Quale vice direttore? Aspetta un momento che consulto l'elenco dei 12 direttori. Faccia sta, queste che vanno il nostro direttore? Adesso guarda l'elenco dei direttori. Non c'è sta manco qua. Come dice, se consultare l'elenco dei sindicati templici, quello è un certo senso di un sordano, lo so a memoria, sono quasi niente solamente. Arrivederla? Certo che risponda tutto il senso del ronato è una gran patica, eh? Avergo poi, mi istituito pure due linee speciali. Questa, la linea nera del perdizio in tutti. Se riconosce bene un suono caratteristico, un rumore speciale, come faccio a spiegarle? Siete presente quei rumori che cominciano a sperare e finisce mennacchia? Questa invece è la linea degli analogi dell'epolo piano. Dona Mai ha fatto le ragni a trevi. Questa lì l'hanno è statista un minuto. Ora, anche a parte del parolaccio, sia pure nel punto tempo. Non mi chiede una cosa tanto di spavica, eh? A me che me è buono e non l'ho inserito. 35 riga parolaccia. Non tante, ma le tene che trasmettono cordialmente delle romanzi di Mariano coi 4-5 milanini ma ha un po' tempo, eh? Pronto? Pronto? Ragni putta tutti i frutti, ma che mica? Aspetta che impegno, eh? E, 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 U, No, Tu, No, Bellissimo. stia tranquillo che trasmetto eh e se non so che lei ha chiamato pure io ma ce l'ho un po' di maldienza eh prima che ha finito un baudo gli amandamo tutte quante le comunicazioni andava a stare dove non c'è tempo eh comunque la metto in vista di attesa stia tranquilla hai vederci? quanto è caluncio sto suono eh è dedicato pronto per questi insulti va che mica chi è Ruggero Orlando non ce l'ho occupatissimo stanno insultati a Piazza Delite pronto ragni fu ma che mica come dice che pare di una vettura del programma e il maestro e il maestro mi stanno a sbagliato tempo sicuro ci giuderebbe se confonderemo un po' di un altro perché quelli di qui che sbagliato tempo ce n'è uno soltanto eh bernacca con tutto provvederemo arrivederci è vero 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 era uno che poteva rocciare il gruppo dei patinolosi che ha preso la pratica in faccia non ciò costa quando l'ha presentato con un'altra signora di vita è vero pronto servizio passi benissimo io manderemo a guardare il visore prima che trasmettono sette giorni in Parlamento così tu lo può vedere dovete signora arrivederci e oggi allora pronto servizio passi va che mica pronto si può eroggiare indossizionalmente un quarto l'hai e si imbarca si si porta e si mette non va non parvista che sto riconosciuto ma niente perciò è di questo pronto servizio tutti vai di fu vado di via qui perché come dice una mangiata no una mangiata pone è tranquillo che ce lo bagniamo subito subito guardano quattro spesso vedete le trovate le perrandelle in tutti in Brangese spreghe no pronto tutto un vano un sete tutto un vano un sete prego interruzione vedo va pronto guarda che stasera non lo stai l'acqua a casa per star scatenare in vera al servizio in tutti da che hanno cominciato la prestigione nuova con l'unità ciao vediamo oh madonna non vorreste tutto pronto pronto ho messo in un anno a progare l'unità questi qua che sono diretti a mezzo di monetti e su quell'arca o come dice poter non è meglio la mia sinistra adesso raggia la nuova quando è fanno uscire basta ma programmi a settembre cammini luglio novembre rivista tram i gialli rivista con veri raffi palli centenite assurdo uno non funzioni mai nessuno uuuuuh